In Red Dead Online ci sono varie razze di cavalli, ognuna con le proprie caratteristiche fisiche e statistiche uniche come velocità e resistenza fisica. Le razze sono realmente esistenti e ovviamente hanno un diverso livello di pregio, cosa che va a influenzare eventuali ricavati in caso di vendita e le prestazioni quando si monta. Quindi possiamo trovare tre tipi di Arabi, abbiamo il Morello che si può sbloccare al rango 70 e costa ben 42 lingotti e 70, queste sono le sue caratteristiche. Anche poi abbiamo quello bianco che è anche altrettanto buono, costa 850 dollari, quindi non andate a pagarlo con i lingotti, però si sblocca a livello 66. E infine il Sauro Rosso, questo qui lo può prendere, se avete i soldi, si può prendere anche da subito senza nessun rango richiesto, quindi anche per i nuovi che iniziano a giocare. Il Foxtrotter del Missouri, dunque allora questo qui abbiamo il Pinto Argento Pomellato che è sbloccabile a livello 58, poi lo Champagne, sbloccabile sempre a livello 58 e costa 950 dollari. Poi il Ruano Blu, questo può essere preso in qualsiasi livello, quindi anche dall'inizio, però costa 1125, poi il Tovero Nero che questo invece dovete pagarlo soltanto in lingotti, quindi 45 lingotti. Isabella Striato, anche questo qui acquistabile senza rango, ma costa sempre 1125 dollari. E infine il Grigio Pomellato, sempre 1125 dollari. Poi abbiamo il Turcomanno, abbiamo il Dorato, vedete anche le caratteristiche qui con i trattini che potete vedere, e questo è sbloccabile a rango 60 e viene a costare 950 dollari. Poi il Baio Oscuro che si può sbloccare a livello 56 e costa 925 dollari. L'Argento che lo potete sbloccare a rango 60, invece il Grigio è sbloccabile fino a subito ma costa 1000 dollari. Poi abbiamo il Morello che invece ci chiede 40 lingotti, il Sauro, molto bello, vedete, e questo 1000 dollari. E infine Perlino, che sarebbe un po' albino praticamente, e costa 1000 dollari. Dunque in Mustag abbiamo il Baio Rossiccio, sbloccabile al 27 di rango, e costa 130 dollari. Il Falbo Grullo, 27 di rango. Poi infine il Baio Tigrato, 48 di rango, e costa 14 lingotti. Isabella, 500 dollari, ovvero Nero, ovvero Sauro, e ovvero Falbo Rosso, 500 dollari. Grazie. Grazie.